Ho la spada del suo campione. Tu continui a sorprendermi. La tua nave sta per esaurire lo spazio per le scorte esotiche. Che ne diresti di aumentarlo? Vaun, sembra che le tue razzie abbiano spinto certi luoghi sacri a cercare protezione. Hanno ingaggiato dei mercenari perché siano i loro campioni divini. E cosa significa per me? In ogni fiume le difese saranno alzate al massimo livello. Devo cercare di evitarli? No, dovrai attirarli allo scoperto, ucciderli e reclamare le loro belle armi come trofeo. Hai voglia di razzie? Ok. Grazie a tutti.